Salve a tutti da Giuseppe Livoti e da Francesca Martino, secondo appuntamento di due volte al mese e cara Francesca questa settimana di che cosa parliamo? Questa settimana parleremo di legalità perché molto spesso si utilizza questa parola solo nelle grandi occasioni ma deve essere oggetto della nostra quotidianità e oggi definiremo i vari obiettivi e anche le strategie che si potranno adottare per far sì che questo avvenga. Naturalmente ci troviamo nel cortile delle Muse in via San Giuseppe a Reggio Calabria e proprio la sala d'arte delle Muse ospiterà questa conversazione in cui tanti referenti andranno a chiarire il concetto della legalità perché come dice Vittor Hugo è facile essere buoni ma è difficile essere giusti. iscriviti al canale Grazie a tutti.